Dobbiamo ridare credibilità a Reggio agli occhi del Governo nazionale di tutte le istituzioni e l'appello lanciato dal primo cittadino della città dello stretto Giuseppe Falcomatà che questa mattina ha incontrato i giornalisti per parlare degli ultimi sviluppi del decreto Reggio. Se è vero da un lato che non possiamo assolutamente consentire che sia fatta questa forma di depotenziamento e definanziamento del decreto Reggio è allo stesso tempo opportuno interrogarci sul perché questa decisione è stata presa dal Governo nazionale. Davanti ai cronisti il sindaco ha sottolineato che il piano dei lavori in capo al decreto Reggio è un vero e proprio bollettino di guerra, opere che ancora oggi non hanno visto la luce per diversi motivi. Le cause sono diverse, ha affermato, rimodulazioni, sal non pagati, transazioni, ditte che hanno abbandonato i cantieri e cosa sconvolgente, molte opere sono in fase di progettazione. Vi è di più però perché anche se non ci fosse stato questo definanziamento, noi oggi non potremmo attingere un euro dalle casse del decreto Reggio che va spiegato ha un bilancio diverso rispetto a quello del Comune. Perché? Perché una ditta, in particolare la ditta Lafa 3 del progetto integrato di Mortara, ha fatto un pignoramento e adesso c'è una procedura esecutiva che ha visto il nostro Comune inerte non difendersi come doveva per bloccare questa procedura. Naturalmente faccio riferimento a attività che il Comune avrebbe dovuto svolgere in passato. Quindi comunque sulle casse del decreto Reggio ad oggi non arriverà un euro perché quell'euro sarebbe pignorato dalla ditta che ha fatto la procedura esecutiva.